e ora se parliamo di silvia provvedi ossia della ex fidanzata di fabrizio corona in quanto ormai sembra abbastanza evidente che il fabrizio e silvia sia ormai tutto concluso addirittura come vi dicevamo la settimana scorsa lui è stato pizzicato a baciarsi in puglia con l'extronista ludoviva valli mentre silvia provvedi sembra che addirittura abbia un nuovo amore e ve ne parliamo anche perché si tratta oltretutto di un ex corteggiatore di uomini e donne nel caso specifico si tratta di federico chimiri se non erro corteggio senza particolare successo proprio clarissa marchese in ogni modo pare che silvia e federico facciano veramente sul serio attualmente la nuova coppia si trova in vacanza dalle parti di formentera ma non sono esattamente soli infatti con loro c'è tutta l'alleabra combricola di uomini e donne ed intorni ovviamente ci stiamo riferendo a andrea da amante ignazio mossere cecilia rodriguez che la cosa sia seria lo testimonierebbe il fatto che silvia abbia già presentato il nuovo fidanzato alla famiglia